bella frutta ragazzi mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione della sceneggiatura è di genere thriller la durata è 1 ora e 37 minuti il regista è Arthur Alan Seidelman la regia è buona, bravo regista paese di produzione, Stati Uniti d'America l'attore è Malcolm McDowell bravo attore, nel film anche Madeline Smith Osborne saluto Samobrina Cita, Aliciotola, Marcolf, Mariuccia, Magellan Alessandro Bidone, Kevin, Gigi Pia, Ilaria, Ilario, Domenico Leo Tassoni Festival Peter, Tim, Bulluni Ivan Drago, Michele Zagigliani, Favijay, Picchiatore e Telefin122 Mr. Bike TV il Trio Medusa Mac Finder guardate questo video lasciate dei commenti, lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche guardate questo video arrivederci e al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto asusti guardate Grazie a tutti